Vitality è un progetto PNRR che coinvolge tre regioni, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. In Umbria è coordinato dall'Università degli Studi di Perugia che coordina direttamente due SPOC, lo SPOC numero 9 e lo SPOC numero 10. Questi due SPOC sono dedicati ai materiali innovative, ai materiali avanzati. Sono quei materiali che sempre più spesso incontriamo nella nostra vita. Sono per esempio materiali molto resistenti ma molto leggeri, sono materiali che conducono bene l'elettricità o che schermano dal calore o che al contrario lasciano respirare, per esempio. Sono i nanomateriali, i cosiddetti materiali a bassa dimensionalità, per esempio il grafene, ma sono anche i biomateriali, per esempio le bioplastiche. Il 19 gennaio faremo un incontro pubblico a Perugia in cui parleremo di questi materiali e illustreremo i progetti che i ricercatori dell'Università di Perugia, in collaborazione con altre università, con il CNR e con le aziende, stanno portando avanti.